Per la prima volta in tutti i villaggi della Land of Fashion e quindi anche a Valdichiana Village apriremo per il primo giorno dei saldi con un orario straordinario dei nostri punti di venta fino alle 23 mentre per le ristorazioni apriremo fino alle 24, un modo per coniugare lo shopping a un momento di piacevolezza come quello dell'aperitivo o della cena e quindi avere un ambiente frizzante, divertente ma allo stesso tempo rilassante. Un mese intero di eventi di grandi nomi qui al Valdichiana Village saranno saldi a tempo di musica. Oltre allo shopping come ci siamo detti soprattutto sabato 6 ci sarà tanta buona musica, tre postazioni, tre DJ set per il nostro villaggio che inizieranno alle ore 19 e poi una piccola trasformazione. Il villaggio prenderà vita, si trasformerà in un vero e proprio stabilimento balneare stile Versilia con ombrelloni, poltroncine, sdrai e la possibilità di gustare cocktail quindi come essere quasi al mare. Ecco quali sono le aspettative di questo non solo mese di eventi ma insomma anche di questo periodo di saldi che indubbiamente consente a chi accede alla vostra struttura di fare davvero dei buon affari? Il momento dei saldi estivi rimane sicuramente dal livello commerciale uno dei momenti più importanti dell'anno. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo raggiunto sino adesso e siamo convinti che i nostri ospiti rimarranno allo stesso modo compiaciuti dei nostri eventi estivi perché come da tradizione anche quest'anno ospiteremo una pipeline di artisti di altissimo livello grazie alla nostra partnership con Radio Subasio nel format Musiche e Parole infatti ci verranno a trovare il giorno 12 i Tiro Mancino, il giorno 20 Ermal Meta e il giorno 26 i Coma Cose. Quindi sicuramente un'estate ricca di eventi e come amo ricordare sono tutti eventi ad ingresso libero che inizieranno a Leone 21 e quindi siamo sicuri di regalare una bella emozione per l'estate di tutti i nostri ospiti. Ecco, come una struttura di questo tipo che è indubbiamente una meta commerciale per lo shopping però può creare indotto a livello anche turistico per i territori di riferimento? Il legame con il territorio, in particolare con i borghi che lo caratterizzano è molto forte Valdichiana Village va ad ampliare quelli che sono i motivi di scelta del nostro territorio oltre dagli amanti dell'ambito turistico legato all'ambito culturale, folcloristico, odeno-gastronomico Valdichiana dà la possibilità di trovare anche a tutti coloro che amano lo shopping e la moda una destinazione che è caratterizzata da 120 negozi, dei marchi più importanti in ambito nazionale ed internazionale. Ecco, in questo senso l'Unione fa la forza e noi siamo in grado di migliorare quelle che sono le performance anche del territorio.